Onorevole Tannock per il gruppo ICR, un minuto. Invito i colleghi, a seguito di una comunicazione delle cabine, di non parlare troppo velocemente perché altrimenti la traduzione non è possibile. Ci sono ancora nuove allegazioni di violenza di humanità in Crimea, dettagli nel reporte dell'Università Unica Unica Unica. È anche il caso che il gruppo Crimeano di minori, il Tatars, continuano a essere persecuti, che ecco la trattazione dei bambini dei bambini under Stalin. L'imprisonamento di prominenti Tata dissidenti, Aktim Chigosh, Ilmi Emirov e il giornalista Mikola Semina, e anche il fatto che il Parlamento di Tata, il Majlis, è stato fermato. Il mio gruppo, ICR, continuerà a oppostare le actione dell'Università Unica Unica e la pressione dell'Università Unica. La popolazione di turkicolata deve essere permesso di vivere tranquillamente nella sua città di Crimea. E qualsiasi esforzi da l'Università Unica Unica di russi per fornire il peninsulario con le politiche di persecuzione o di rinforzamento dei bambini dei bambini democratici. Grazie. Grazie per il gruppo dell'Alde. Onorevole Paet, prego un minuto. Grazie. 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 Grazie.